Perché davanti a questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze non basta la rabbia, non basta il dolore, non bastano nemmeno le condanne, che pure ci devono essere, devono essere certe, non basta l'indignazione. C'è tanto che dobbiamo fare sul versante della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, perché la repressione non basta. Sulla repressione stiamo lavorando, è stata appena approvata in via definitiva al Senato una legge con il miglioramento di alcuni strumenti di misure cautelari, abbiamo contribuito anche noi a affinare questi strumenti, ma continuiamo a dire che la repressione da sola non basta se non si fa un grande investimento sulla prevenzione. Abbiamo fatto proprio ieri sera al Nazareno una bella assemblea di ascolto dei centri antiviolenza e di quei saperi e di quelle competenze noi dobbiamo fare tesoro e non si può pensare di prescindere da quelle competenze e da quei saperi delle operatrici dei centri antiviolenza e degli operatori per costruire qualsiasi percorso serio e credibile di prevenzione.